...l'appalto della raccolta della spazzatura. Perché lui eroneamente, probabilmente non è neanche a conoscenza del delibere che fa, o ha avuto una vista, un altro giorno quando ci ha fatto delle false promesse dicendo che per portare via l'immondizia sarebbe bastato fare una chiamata alle ditte comunali della raccolta rifiuti, oppure telefonare direttamente al sindaco. Noi giovedì abbiamo chiamato, venerdì abbiamo chiamato, ma c'è stato assicurato che in giornata sarebbe sparito tutto e come vedete non è sparito assolutamente niente. Lui ha detto di rivolgersi a Econord, dimenticandosi probabilmente di una sua stessa delibera che ha diviso la raccolta della spazzatura. La raccolta differenziata è affidata ad Econord, mentre invece la raccolta dei sacchineri e la pulizia dei parchi è affidata alla cooperativa, specifichiamo, alla cooperativa Ozanam.